Ti capita spesso di dover stampare flyer, brochure o booklet? Hai delle sale e riunioni dove organizzi training ed eventi? Hai un hotel? Hai un centro congressi? I multifunzioni Ricco ti aiutano a migliorare l'esperienza dei tuoi ospiti grazie ai finisher opzionali. Hai bisogno di piegare dei documenti? Il nuovo finisher interno Ricco può piegare i fogli in modi diversi. Hai bisogno di perforare dei fogli per inserirli in un raccoglitore? Il finisher perforatore Ricco fa proprio questo. Hai bisogno di creare dei libretti pinzati? I finisher booklet Ricco piega e pinza fogli e rilascia libretti pronti e perfetti. L'ultima generazione di multifunzione Ricco ti consente di montare tutti i tre tipi di finisher sullo stesso dispositivo.